Il sogno medaglia sfuma per un decimo, niente finale terzo e quarto posto per la nostra Vittoria Guazzini che insieme a Barbieri, Paternoster e Consonni non è riuscita a coronare il sogno di un'Olimpiade è comunque positiva perché la Poggesi nata nel 2000, il 29 dicembre deve ancora compiere 21 anni e avrà ancora tutto il tempo per rifarsi. In ogni caso un'esperienza importantissima una esperienza che la proietta come sempre nel giro azzurro del quale sarà sempre una punta di diamante. Questa mattina per il Poggio abbiamo fatto un giro, abbiamo trovato degli amici come Marco Bonecchi della Moto Officina Zampini, uno degli scopritori di Vittoria Guazzini. Nel suo negozio infatti campeggiano tante fotografie di Vittoria ancora piccolissima con i colori del Velo Club Seano One, la società che l'ha lanciata. Anche Marco Bonecchi come tanti sportivi del luogo hanno commentato così, avrà tempo sicuramente per rifarsi.